Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sto andando a fare un'assemblea d'istituto dove 300 ragazzi di un istituto alvese, dove studiano tra l'altro il cibo, mi hanno invitato proprio per parlare di cibo e cambiamento climatico. Si sono autotassati per invitarmi. Che dire di più? Meno male, speriamo di essere io in grado di raccontare qualcosa a loro che sia utile per il loro futuro. E intanto la notizia di oggi, l'invi news di oggi, è legata a queste temperature record mai registrate in Australia. Le trovate abbastanza in rete, se ne parla abbastanza, se ne parla. Beh, intanto perché è veramente l'eccezionalità del dato. È stato registrato l'altro ieri, tre giorni fa, il picco di 48.3, ieri 49.3. Siamo attorno ai 50 gradi e centigradi registrati in Australia. Mai registrato questo calore così forte con tutte le ripercussioni che facilmente immaginate. E certo viene da associare questa registrazione della temperatura con il fatto che l'Australia è stata una delle nazioni che più si è opposta alle conclusioni della COP25, recente COP25 a Madrid. Quindi spesso, diciamo, a livello politico ci si oppone a certe scelte quando poi se ne subiscono le conseguenze. In realtà questo calore registrato in Australia dovrebbe farci riflettere perché anche noi in questo momento stiamo assistendo a un inizio d'inverno, fine d'autunno, assolutamente mite. La nostra centralina meteo della cooperativa Erika ha fatto registrare la minima ieri notte di 8 gradi che sono le temperature di ottobre sostanzialmente. Quindi c'è da riflettere sia per cambio globale che ha delle ripercussioni anche da altra parte del mondo che cosa sta accadendo da noi. Vado dai ragazzi, buona giornata, ciao!